Buon day bella, lasciate stare la mia faccia che è distrutta, la gente mi guarda male Allora vlogghiamo, praticamente siamo in stazione, stiamo facendo colazione Tra poco partiamo per Bologna che oggi abbia la data, dopo vi metto qualche spezzone dell'evento Con le tate e i tati Siamo arrivati a Bologna e niente, siamo in carichi, sono carico per oggi, spacchiamo tutto il paladozza Tate sono venute in stazione, fatti dare un bacino In stazione con Sameppe Ciao Tate Siamo nel palazzetto, nel paladozza, siamo pronti per la partita La squadra è composta da Barbuto, Ruta, Vagnato In attacco A basket non c'è l'attacco alla difesa A basket non c'è l'attacco alla difesa C'è in attacco Eccola lei, la regina di Bologna Grande Mattia Che dichiarazioni hai da fare? Non ho ancora questi dati del basket Attenzione, Giuseppe Oh Ma è sabato mattina oggi giorno dopo le 20 a bologna stiamo aprendo tutti i regali molto i cartelloni stiamo arrotolando tutti così poi ce li abbiamo tutti insieme quante bandane mi avete regalato troppe grandi e come da tradizione ogni weekend sushi ok adesso ancora non c'è niente siamo appena arrivati comunque sto vloggando un po' a scazzo cioè oggi per esempio è domenica ieri non ho vloggato perché ho il sushi vuoto quindi posso parlare no ieri non abbiamo fatto niente quindi non ho vloggato oggi tutto il giorno abbiamo avuto pranzi di pasqua ho conosciuto un sacco di parenti di sammy quindi non ho vloggato adesso siamo da soli siamo a sushi vlog quindi sto vlog sarà un po' spezzi però so che vi piacerà lo stesso com'è sammy non so voi ma a me stavendo un dubbio di solito le forchette non hanno quattro tipo non so come chiamare spunto a me questa ne ha 5 wow questo è il tempo vlogg vlogg è over ragazzi siamo appena tornati dal sushi sono una palla ragazzi sono pieno come un uovo no com'è che si dice in diretto sono pieno come un uovo sono pieno come un uovo un po' il sushi dopo essere pieno come un'anguria adesso siamo qua a fare il aperitivo un po' lo spritz e via allora ragazzi a me si stupendo è stato un canno perché andremo a fare shopping in un centro commerciale a Verona che è stragrande più grande di quello da Arese quindi più grande d'Europa se ho capito bene è due chilometri di centro commerciale su tre piani quindi due quattro sei sei chilometri di centro commerciale di negozi sei chilometri sono lontano perché per la prossima cosa cioè sapete cosa vuol dire che io oggi piazzo lì la tenda e mi metto a dormire cioè e io sammy siamo una coppia strana perché non sono io che porto a fare shopping lei ho detto è lei che porta a fare shopping lei cioè nel senso lei guarda e io provo si quindi oggi copro un sacco di roba e vediamo ah rettifico non è due chilometri per piano è tre chilometri totale centro commerciale ci sono tipo 230 negozi e oggi li svuotiamo siamo appena arrivati e c'è la sammy oggi farò fare un po' di shopping perché non lo fa mai eh lei odia fare shopping più o meno beh da oggi glielo farò amare da oggi glielo farò amare e ragazzi qua c'è lo stile in persona e sono io si vabbè per tutti i maschietti se volete sapere come mi vesto scrivetemi in direct che facciamo barbuto style barbuto style per un buono shopping shopping bag questa qua deve essere la challenge di oggi la riempiamo prima di uscire dal negozio ma questa mi piace ma questa mi piace non è che guarda la taglia ah già aspetta è una eh prima di una XS non manderà mai sei scemo ma lei che c'è sammy sennò io briglio senza guardare basta che compro niente raga abbiamo già fatto compere chiamando mia mamma perchè ho finito i soldi eccoci già niente raga questo qua è il mio periodo rosa cioè c'è tutto rosa però va bene è tutto rosa ah mi sembro così spesso nel mezzo del cammin di nostra vita è qua che perdemmo giuse si raga ecco la situa dopo mezz'ora che siamo qua per la prima volta sono entrato da Bershka e non ho comprato nulla però mi sono accorto mi sono accorto che ho quasi tutto e questa cosa non so se vantarmi o vergognarmi vabbè pazienza ah raga sono non so quali prendere sono troppi non so quali provare però mi riproverò tutti ad esempio ma sta mangiando al mecc io no devo resistere perchè sono a dieta però ieri ero a sushi abbiamo finito di fare shopping questa è la situa e a me non mi ricordo si scusa vabbè adesso si va a casa Il papà di Sammy ci ha portato in un posto strafigo, si chiama America Graffiti e ci sono tipo gli hamburger americani stra giganti e io non so cosa prendo, ma ne voglio uno per il beccolo. Il big boss burger, mamma mia, il giant invece è quello grande, si è, ho dato il panino ed è gigante, guardate la differenza tra il mio e quello di Sammy, me lo metto vicino e il figlio lei, questa è la differenza, è gigante, non lo riesco, è difficile da prendere in mano, eh, buono, stra buono, Ragazzi, non ho riuscito a finire il panino, era enorme, ho finito anche il patatino e niente, adesso Sammy ha ordinato il dolce, è una pazza, oh io ho preso il panino baby, che era comunque grande, grande, il mio era cinque volte, era stra gigante, comunque buono, 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 ecco il dolce della Sammy, Sammy cosa hai preso? Waffle. Con cosa? Con gelato e panno. Eh? Gelato e panno. Gelato e? Panno. Sembra buono, molto buono. Guarda lì, un'ora per prenderlo. stra buono. Stra buono.